Il Pierangeli torna ad essere fatale per il città di Monterotondo, che deve arrendersi a un Villanova sempre più lanciato nella corsa ai play-off e che si ritrova a fare i conti con una lotta alla salvezza che si rivela sempre più complicata. Gli uomini di Di Loreto partono in quarta e dopo neanche un minuto si portano avanti grazie al colpo di testa di Vittorio Marini che infila il rete sugli sviluppi di un corner. Il match non regala più emozioni fino al 24esimo, quando De Francesco riceve un rosso diretto per un fallo su Di Mauro che costringe l'undici di Sgherri all'inferiorità numerica. Nonostante l'uomo in meno, i padroni di casa provano a rendersi pericolosi al trentesimo con Italiano, ma il suo sinistro dalla distanza sfila a lato. Il città di Monterotondo insiste al 34esimo, la punizione di Toscano pesca in area Tiff che di testa manda fuori. La caparbietà dell'undici di Sgherri viene premiata al 39esimo, quando Quadrini trova il pari direttamente sul calcio piazzato, beffando Trinchera e trovando il gol del momentaneo 1-1. L'avvio di ripresa sembra una fotocopia di quello del primo tempo. Passa un solo minuto e ancora Vittorio Marini riporta avanti il Villanova, ricevendo sui piedi una conclusione di Lorenzo Marini e respinta dal palo e depositando il pallone in fondo al sacco per il 2-1. Al settimo, Ianni riceve un cross dalla destra di Di Mauro, ma il suo colpo di testa si stampa sul palo. Il secondo tempo è decisamente più coinvolgente del primo, anche per merito del signor Greco di Roma 1, che all'undicesimo estrae il cartellino rosso anche per il Parmieri, ne ho entrato tra le fila tiburtine, che dopo un solo minuto di gioco rientra negli spogliatoi. Il Villanova cerca il gol della tranquillità. Al diciassettesimo, Di Fazio scende sulla destra e lancia per Vittorio Marini, il cui destro da fuori aria non inquadra la porta. Nuovo pericolo per i padroni di casa al 23esimo. Neroni, dalla sinistra, passa al centro per Ianni che conclude, ma trova la deviazione di De Vellis in angolo. Gli ospiti insistono al 35esimo con una discesa sulla destra di Giampaolo, che tira ma trova la respinta dell'estremo difensore di Sgherri. E dieci minuti più tardi è proprio il numero 16 di mister Di Loreto a servire Neroni, ma il suo rosoterra non trova il bersaglio. Vince il Villanova, che con il 2-1 rifilato al città di Monterotondo, si mantiene stabilmente al quarto posto, a meno tre lunghezze dalla nuova sorianese e prossima avversaria. Si complica invece la lotta alla salvezza per i ragazzi di Mister Sgherri, che precipitano in penultima piazza in virtù del successo odierno della Caninese. Grazie.